Grande giornata all'insegna dell'educazione fisica e dell'attività sportiva, quella andata in scena al campo sportivo comunale di Monte Carlo. La manifestazione nata inizialmente per rivolgersi agli studenti delle scuole del territorio comunale è divenuta oggi un momento di felice aggregazione per tutta la cittadinanza montecarlese. Dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18, grazie alla collaborazione tra il Comune, il Coni, la Proloco, Monte Carlo, il Panatron e le associazioni sportive del territorio, tutti i presenti hanno infatti potuto misurarsi nelle più diverse discipline sportive, tra cui ciclismo, tiro con l'arco, calcio, corsa, handball, rugby, baseball, softball ed equitazione e tanto altro ancora. Ma oltre a cimentarsi con lo sport, grandi e piccini hanno poi trovato anche un angolo del benessere grazie alla presenza di diversi medici specialistici, come un fisioterapista, una podologa e una nutrizionista, che gratuitamente hanno fornito consulenza a tutti gli interessati. Insomma, una bella e grande festa dello sport per far conoscere ai ragazzi l'importanza di una buona educazione fisica, avvicinandoli magari a sport meno conosciuti. Si tratta semplicemente di una vetrina sportiva per invogliare i ragazzi e gli studenti del plesso scolastico di Monte Carlo per provare e avere modo di essere interessati alle varie discipline e attività sportive per poi eventualmente sceglierle e proseguirle nel proseguio della loro carriera scolastica e non.